Caro Governo, caro Presidente del Consiglio Conte, cara Protezione Civile, vi chiedo un favore, potete finirla di dire che i dati sono in calo, anche perché una persona intelligente dotata di intelletto legge i dati e vedendo quei dati sicuramente non può gioire perché calano i morti di 5 morti a posto di farne 800 ne facciamo 795. Non si può gioire per questo. Quindi, per favore, smettiamo di dire che i dati sono in calo. Come mai? Perché l'Italia è una nazione di persone incredibili, ma è anche una nazione piena di ignoranti cronici che alla notizia che i dati sono in calo, oggi al posto di stare in casa, vi faccio vedere, escono manco fosse l'Italia che ha vinto i mondiali del 2006. Ma tutta questa gente, guardate qua, ma questa gente lo ha capito in che situazione siamo o no? Lo ha capito che praticamente siamo la nazione più martoriata al mondo dal coronavirus o no? Questa gente ha capito che deve stare in casa o no? E la colpa di tutto questo è quello che dite voi durante le vostre conferenze stampa, in cui dite che i dati sono in calo. Dovete capire che l'italiano medio, spesso e volentieri, è capra e non capisce. Non capisce. Allora, bisogna dire, in televisione dovete dire, la situazione è una merda e come tale, porca puttana troia, se uscite di casa crepate. Questo bisogna dire. Questo. Perché la gente che mi dice, oddio, non bisogna fare allarmismi, col cazzo! Col cazzo! Ci sono milioni di morti nel mondo! E poi bisogna iniziare a usare la testa. Bisogna iniziare a usare la testa e non essere degli ignoranti imbecilli. Usate la testa, cazzo! Siete in grado di usare la testa o no? Cioè, siete in grado di leggere tutti i giornali e di guardare i telegiornali? Sì o no? E di trarre delle conclusioni logiche e oggettive? Sì o no? Allora, vi siete accordi che nei primi giorni davano tutti i dati impossibili e immaginabili? Gli strilli in copertina erano ecco qua i dati dei contagiati in terapia intensiva, ecco qua i dati dei morti, ecco qua i dati dei guariti. Adesso improvvisamente ci danno solo il dato più bello. Oddio, eccoci qua, meno morti di ieri. E gli altri dati invece, se si schiaccia il link, si entra nella tabella e si può leggere che non c'è una situazione così rosia. Siamo nella merda! Lo capite o no? Quindi state nella vostra cazzo di casa! Non uscite! Non andate da nessuna parte! Porca troia! Ci sono medici, dottori, professori, volontari della Croce Rossa, militari, forze dell'ordine, farmacisti, gente che lavora nei supermercati, che vorrebbe stare a casa con la propria famiglia, che non può abbracciare i propri figli. Cazzo! E voi, stronzi, uscite di casa! E ogni volta che vi invoglia di uscire di casa, guardate i video dei mezzi militari che portano via le tombe da Bergamo, brutti stronzi! Perché lì dentro ci sarete voi, teste di cazzo! Il popolo siete, di ignoranti, di capre! State a casa! State a casa! State a casa! Idioti! 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 Cretini! Finitela di fare deficienti! Non avete educazione! Non sapete un cazzo della vita! Niente! Ma che cazzo di...